...è stato quando io ho contratto la geologia marina. Della geologia marina, Maria Bianca Cittasironi è stata una pioniera. Nata a Milano nel 1924, fu la prima iscritta in assoluto al corso di geologia in statale e anche la prima laureata, a soli 22 anni. Studia con Ardito Desio, esploratore che partecipa alla spedizione di conquista del K2 e poi ottene la cattedra. Da negli anni 50, Maria Bianca Cittas concentra i suoi studi sulla micro-paleontologia marina. La conoscenza dei posti fa sì che nel 68 sia invitata, unica non americana, sulla Gromar Challenge, la più grande nave da perforazione al mondo. Nel 70 partecipa alla missione che porterà all'elaborazione della teoria dell'essiccamento del Mediterraneo, oltre 5 milioni di anni fa. Sarà la prima donna presidente della società geologica italiana, con il suo lavoro ha formato generazioni di ricercatori. Qualcuno l'aveva definita la signora degli abissi. È morta a 99 anni, nella sua casa di Milano. Soprattutto nelle immersioni profonde. Quando ci arriva in fondo al mare, cambia completamente l'ambiente. Ho visto delle cose stupende. Grazie. Grazie a tutti